L'Hobman della Stella Alpina resta al suo posto e per il drammatico, politicamente parlando, caso di Merano si vedrà. Questo il succo del discorso dell'Assemblea di tutti i segretari comunali del partito di raccolta su Tirolese che si sono ritrovati alla Casa delle Associazioni nel Comune di Andriano per l'analisi e le relative decisioni da intraprendere alla luce dei risultati delle elezioni comunali. È stato espresso da nostri gruppi locali un pieno sostegno anche al direttivo del partito e ci è stato dato anche l'incarico per continuare con la riforma del partito, la riforma strutturale, la riforma tematica e devo dire che era veramente un clima molto positivo e anche costruttivo analizzando quei punti, quei risultati che sono andati bene e quelli che non sono andati bene e anche discutendo di come cambiare o di avere più consenso come si tratta la Volkspartei ma anche dicendo che abbiamo ottenuto con più del 54% anche un buon consenso soddisfacente ma avremmo voluto ottenere di più, questo è assolutamente chiaro. Sì, per noi è andato tutto bene. Tutti i rappresentanti dei Ostralschitz ci hanno detto che non è colpa del Oppmann o anche del Presidente. Come vediamo noi andiamo avanti così, vediamo la situazione in ogni comune, la situazione è un po' diversa e quello c'è da controllare, c'è da trovare una soluzione a che cosa adesso c'è da fare, come andiamo avanti nei comuni. C'è stata sì una perdita dell'1,77% dei consensi ma la Sbope ha comunque un sindaco in 99 dei 116 comuni altoatesini, è stato sottolineato in occasione della Maxi Assemblea. La situazione più delicata è sicuramente la debacle di Merano dove la sconfitta di Gerald Gruber brucia parecchio. Si andrà al governo della città del Passirio con il sindaco Roche o invece si andrà all'opposizione? Beh, tutto è possibile, assicurano. No, non abbiamo la paura di andare in opposizione dove è necessario e dove non riusciamo a fare una coalizione. La Sbope ha anche il coraggio di dare la competenza e la responsabilità a chi ha vinto le elezioni. Certo è comunque che guardando al futuro è opinion diffusa tra la Sbope che sia venuto il momento di voltare pagina. Ci vuole una politica che sia più vicina alla gente. Si vede che l'appoggio della gente fuori per i partiti sta sempre più diminuendo e dobbiamo fare sicuramente una strada con quello che è la nostra storia ma sicuramente anche intraprendere nuove vie.